Dungeons and Dragons e Dead by Daylight, vediamo il trailer insieme. Animazione 2D, simpatica, ma sentiamo una vocina... una vocina che si conosce. Mimic? Credo di sapere a chi appartiene questa voce. Diciamo che è un cattivo che ultimamente sta andando per la maggiore. Belli, bello, mi piace. Buonissima CGI, guardali là. Due avventuriali sono già andati. Sai, sono i rischi di esplorare i dungeon, amica mia. Puoi sempre trovare qualcuno che te le dà. Però questo particolare cattivo, che penso che ormai tutti abbiamo capito chi sia, è anche abbastanza sadico, quindi si può divertire palesemente nel torturare psicologicamente le nostre vittime. Oh, un bello scrignetto. Cosa troviamo dentro? Eh, vabbè, la mano di Vecna, incredibile. L'artefatto, uno degli artefatti più richiesti del multiverso. Ah, giustamente. Dove c'è la mano, c'è anche il suo possessore. Uh, che bello vedere Vecna animato così per la prima volta. Quello è il libro delle fosche tenebre, ragazzi, ragazze. Bello, 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 10-10. Vorrei tanto vedere un film basato su questa roba. E voi che ne pensate? Me lo fate sapere nei commenti? Ciao dal vostro master.